Il Pescara vince entrambe le due minigare del Gaetano Bonolis e si aggiudica il triangolare di Teramo contro i biancorossi locali che parteciperanno al prossimo campionato di Lega Pro ed il San Nicolò che prenderà parte dopo la cavalcata vincente dell'eccellenza al torneo nazionale di Serie D. Dopo aver regolato di misura gli uomini di Epifani per 1-0 grazie ad un gol di Pucino realizzato all'ottavo minuto sugli sviluppi di un calcio di punizione, la squadra di Marco Baroni che ha mandato in campo tutti i giocatori a disposizione si è poi ripetuta in gara 3 superando dopo i calci di rigore il Teramo per 6-3. La gara nei 45 regolamentari si era conclusa sul 2-2 grazie alle segnature in sequenza di Riccardo Maniero di Testa, Bonaiuto con un bel tiro angolato, Caprari e allo scadere Petrella. Nel mezzo c'era stato il successo con il più classico dei risultati della squadra del presidente Luciano Campitelli sul San Nicolò con reti griffate da Stefano Fiore e Donnarumma. Al di là del risultato del campo si è trattato di un test utile per tutte e tre le squadre che stanno affinando schemi ed intesa fra i reparti alla vigilia dell'avvio dei rispettivi tornei. Buona anche la presenza di pubblico sugli spalti con quasi 2.000 spettatori fra cui oltre 500 tifosi giunti da Pescara. Grazie. 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 Grazie.